Una bussa come tante di quelle che arrivano con la corrispondenza mattutina. Certo c'era un piccolo rigonfiamento grande quanto una scatola di fiammiferi, ma Vittorio Di Benedetto, 88enne presidente dell'Agenzia Marittima Lorusso, non poteva pensare che fosse un marchigegno esplosivo. Fatto bene, non improvvisato, con un circuito che si è chiuso non appena l'anziano, aprendo il plico, ha involontariamente tirato un filo. Per fortuna le conseguenze non sono state gravi. La fiammata gli ha ustionato le mani, ma guarirà in un paio di settimane. Nell'Agenzia, in pieno centro a Bari, è arrivata la scientifica della polizia, anche se c'è ben poco su cui lavorare, frammenti semicarbonizzati di quella lettera, che aveva scritto qualcosa nello spazio del mittente, ma nulla che attirasse l'attenzione dell'anziano o dei due impiegati che erano con lui in ufficio. Tocca alla Digos capire il perché di un attentato che non è stato preceduto da nessun segnale e che probabilmente non ha una matrice locale. L'Agenzia Marittima si occupa di collegamenti con la Croazia, l'Albania e il Montenegro e con la Grecia. Destinazione quest'ultima, più interessante delle altre, se si mette insieme il modus operandi che richiama lo stile anarchico. Gli investigatori baresi stanno lavorando in collaborazione con la direzione centrale della polizia per capire se ci siano collegamenti con altri episodi simili avvenuti in Italia.